È stato proprio un perenne spaziare, tra i suoni degli strumenti etnici, il concerto che Giuseppe Dalbianco ha tenuto a Parco, galleria d'arte moderna e contemporanea di Pordenone, per celebrare la chiusura della mostra Tonino Guerra, diario di un poeta. Avvolgenti vibrazioni, timbri e sottofondi ritmati, prodotti e assemblati come tessere di un mosaico da strumenti musicali tra i più sconosciuti alla nostra cultura, hanno caratterizzato il concerto, coinvolgendo ed emozionando il folto pubblico che ha riempito il salone centrale della galleria, il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Questa sera terminiamo con un concerto di Dalbianco, vi ricordo è un musicista che ha come sua caratteristica quello delle musiche legate ai popoli, lontani, e suonate tutte queste musiche da strumenti particolarmente semplici. Terminiamo la mostra di Tonino Guerra, è esattamente in sintonia con quello che è lo stile del maestro. Questa sera sarà il naturale compimento di uno degli eventi che rimarrà, credo, nella storia del parco. Rimarrà per una precisa impronta di semplicità ma di grandissima, grandissima vicinanza a tutti, al territorio, a noi, a quello che è il nostro sentire. Ecco, queste sono le mostre che vogliamo continuare ad avere. Noi, ve lo ricordo, è una serata anche per dire che noi la città non la vogliamo spegnere, abbiamo certamente delle difficoltà di risorse, ma proprio per fare cultura e per non spegnere la luce che illumina Pordenone, noi vogliamo usare questo concerto questa sera come messaggio a tutta la città civile per darci una mano, esserci vicino in questo momento e continuare nella politica che abbiamo impostato. Grazie a tutti.